Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire un frutto chiamato il re dei frutti per le sue incredibili proprietà nutrizionali e per i suoi benefici. È un frutto difficilissimo da trovare in Italia, molto costoso e ha la particolarità di essere il frutto più puzzolente al mondo e probabilmente anche quello con il sapore peggiore. Ebbene, andiamo a scoprirlo e a come portarlo nella nostra quotidianità. Pronti? Via! Il frutto di cui andiamo a parlare oggi è il durian. Io sono Paolo Babaglion di blogpositivo.it. Se ancora non l'hai fatto, clicca qui sotto, iscriviti al canale, attiva le notifiche e se questo video ti piace, lascia il tuo mi piace e un commento. Ho preparato una presentazione per raccontarvi il durian, quindi andiamo a computer. Iniziamo ragazzi parlando delle proprietà nutrizionali del durian. Pensate che rispetto ad altri frutti è molto ricco di calorie e grassi, con una porzione da 100 grammi che fornisce 147 calorie e 5 grammi di grasso. Questo frutto, che ricordiamo viene chiamato il re dei frutti, è anche ricco di vitamine e minerali, con il 33% del valore giornaliero raccomandato di tiamina, nota anche come vitamina B1, il 24% di vitamina B6 e il 24% di vitamina C. E' anche una buonissima fonte di manganese e di riboflavina. Per quanto riguarda i benefici del nostro re dei frutti, il durian, vi vado ad elencare i quattro benefici più importanti. Allora, intanto migliora la salute del cuore. Perché? Perché il durian è molto ricco di potassio, noto per la sua capacità di abbassare la pressione sanguigna, che è un importante contributo alle malattie cardiovascolari. Il durian è anche ricco di fibre e grassi insaturi, due nutrienti chiave per la salute del cuore. Altro grandissimo beneficio del durian è che previene i dolori articolari. Perché? Perché il durian è molto ricco di vitamina C, soprattutto se consumato crudo e quindi anche con un integratore è assolutamente perfetto per questo aspetto. Una tazza di durian fresco o congelato contiene 48 g di vitamina C e l'adulto medio ne richiede 75-90 g al giorno. I sintomi di una carenza di vitamina C includono dolori articolari poiché la vitamina C è un precursore della sintesi del collagene. Assumere abbastanza vitamina C attraverso il cibo è un modo sicuro per aiutare a prevenire i dolori articolari. Un terzo beneficio di cui vi voglio parlare è che il durian promuove una sana digestione perché è ricco di zuccheri naturali che fermentano dopo essere stati esposti ai batteri intestinali durante la digestione. Agisce quindi come un prebiotico nutriendo i batteri lattici benefici nel microbioma intestinale supportando le funzioni digestive e la salute del colon. Inoltre la fibra del durian promuove la regolarità agendo positivamente sulle feci. L'ultimo beneficio di cui ti voglio parlare del durian è che previene le carenze negli anziani. Per gli anziani la malnutrizione è una grandissima preoccupazione. Infatti sono a maggior rischio di perdita di peso e carenze nutrizionali a causa di diversi fattori come malassorbimento, riduzione dell'appetito e accesso limitato a una varietà di alimenti. Il durian è ricco di macro e micronutrienti quindi è assolutamente ideale per le persone anziane. È un alimento denso di energia che fornisce come abbiamo detto vitamine chiave come la tiamina in abbondanza. Avere il durian qui in Italia è veramente difficile perché ha dei costi di importazione elevatissimi quindi costerebbe veramente tantissimo avere il durian nella nostra quotidianità oltre ad avere una grandissima difficoltà nel reperirlo e una stagionatura velocissima. Pertanto per tutte queste problematiche è consigliato acquistarlo come integratore. L'integratore liquido che ti consiglio è arricchito con mangostano e non solo. Ricordi infatti che il durian ha un saporaccio ed un cattivo odore. Benissimo questo integratore non puzza ed è buono perché è arricchito non solo con mangostano ma anche con papaya, mango, guava e lici che oltre a conferire un buon sapore lo arricchiscono di nutrienti. Utilizzando il link che trovi qui sotto in descrizione video avrai un integratore di altissima qualità con 10 euro di buono al checkout. Per questo video ragazzi è davvero tutto. Fatemi sapere qui nei commenti se conoscevate il durian e se proverete questo integratore i benefici che vi darà. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video.